La prima giornata del girone di ritorno, cominciata sabato 13 gennaio, si è conclusa martedì 16 con Juventus Sassuolo, innesimo record stabilito dal superpotere delle televisioni a pagamento, le vere padrone del calcio oggi. Bianconeri nuovamente a meno due dall'Inter capolista, Juventus Sassuolo 3-0, alla vecchia signora basta una doppietta di Blaovic nel primo tempo e un gol a dichiesa nel finale per piegare i neroverdi emiliani. Il resto della giornata ci ha detto cose interessanti, il Milan consolida il terzo posto rifirando un netto trist alla Roma, una sconfitta che come conseguenza della clamorosa ha avuto l'esonero di José Mourinho. Al momento la lotta per la quarta piazza vede in Lizza ben sette squadre in questo ordine, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna, Napoli, Roma, Torino, pertanto sette sorelle racchiuse in soli sei punti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.